Pulizia di primavera ieri a Feltre che si è preparata all'arrivo della bella stagione con un massiccio intervento di riordino. In campo oltre 150 volontari di tutte le età che, coordinati dagli eco-volontari dell'Unione Montana Feltrina, hanno trascorso una mattinata a raccogliere i rifiuti abbandonati tra centro cittadino e frazioni Celarda, Anzù, Arson, Villa Bruna e Foen. Per tutti appuntamento alle 8.30 in Pra del Moro per la foto di rito e poi di corso e impostazione ciascuno nella porzione di territorio assegnata e le sorprese non sono mancate come la scoperta di vere e proprie discariche nascoste nei luoghi più impensati. Siamo appena partiti e abbiamo già raccolto tre sacchi di immondizia grandi, un copertone e qui c'è una specie di piccola discarica in cui ci sono materiali edili e resti di sanitari. Sì, ma stiamo ancora trovandone sempre di più, più andiamo avanti più ne troviamo. Cosa più incomprensibile per noi che effettuiamo queste raccolte periodiche è il fatto che vengono buttati questi rifiuti che potrebbero essere smaltiti tranquillamente a casa tenendoseli in macchina e invece vengono gettati fuori al finestrino e noi ci chiediamo perché. Tanti giovanissimi coinvolti grazie anche alla partecipazione di Associazione Palio con i quattro quartieri, il gruppo sbandieratori e scout a Gesci di Feltre, ma non sono mancati liberi volontari e sostenitori tra cui numerosi rappresentanti dell'amministrazione comunale, tutti con guanti, pinze raccattamonnezza e sacchetti che il furgoncino del Giro delle Mura ha provveduto alle 13 a radunare al Macello, dove saranno raccolti da Bellunuma. Abbiamo una raccolta molto ricca, abbiamo 98 sacchi di indifferenziata, 27 sacchi di plastica e lattine, 7 sacchi di vetro, grazie a tutti quelli che ci sono stati, e una richiesta agli altri. Non sporcate dove adesso abbiamo pulito.